Scopriamo cosa accade ai personaggi di Beautiful, la storica sopopera statunitense, in onda su Canale 5, con gli episodi inediti, da lunedì 27 ottobre a sabato 2 novembre 2024, a partire dalle 13.40. Al centro del racconto il rapporto nuovamente incrinato tra Brooke e Taylor e il complicato triangolo Hope, Liam, Thomas. Beautiful, le anticipazioni dal 27 ottobre al 2 novembre 2024. Dopo il litigio con Taylor, Brooke è delusa e teme che Ridge possa essere influenzato dalla sua rivale, che cerca in tutti i modi di screditarla. Confida dunque i suoi timori a Steffi, la quale, pur affermando di non voler manipolare il padre per farlo tornare con Taylor, sembra felice del desiderio della madre di riavvicinarsi a Ridge, al punto da voler organizzare un viaggio di famiglia a Roma. Brooke riflette sulla fine della sua amicizia con Taylor, considerandola un'opportunità di crescita personale. La sua priorità resta l'amore per Ridge, che però, ancora turbato dalle sue recenti indecisioni, non si sente pronto a impegnarsi. Intanto alla Forrester si preparano per il viaggio a Roma per la Hope for the Future, dove Thomas è al centro delle discussioni per il successo della linea. Taylor, Ridge e Thomas affrontano il gossip su Hope, accusata di nutrire forti sentimenti per Thomas. Sebbene quest'ultimo neghi tutto, i suoi genitori restano preoccupati. Nel frattempo, Hope e Liam discutono animatamente su Thomas. Liam non si fida di lui e vorrebbe che Hope andasse a Roma da sola, ma lei insiste sulla presenza di Thomas come capo stilista. Nonostante i dubbi e le tensioni, Ridge sostiene suo figlio, chiedendogli però di essere sincero sui suoi sentimenti per Hope. L'atmosfera di sfiducia pesa su Hope, che riceve una lettera da Douglas, che si rivolge a Thomas e Hope chiamandoli in papà e in mamma. Questo la spinge a riflettere sui propri sentimenti verso di lui. Nonostante le preoccupazioni di Brooke e Steffi, il viaggio a Roma si avvicina, mentre Liam e Wyatt discutono dei rischi che comporta. Steffi è convinta che sia Hope a provare attrazione per Thomas e cerca di farlo capire a Liam. Prima di partire, turbata dai sentimenti contrastanti che prova per Thomas, Hope va a trovare suo padre. Dove vedere Beautiful dal 27 ottobre al 2 novembre. Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda da lunedì 27 ottobre a sabato 2 novembre 2024, dalle 13.45 su Canale 5. Gli episodi della sopa opera statunitense sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.